Dove stai andando? Ah ma inizia il video, allora ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi video diverso dal solito, mi hanno voglia di vedere la neve. Abbiamo dato le previsioni, veica dappertutto, allora stiamo andando a Forgheria. Siamo in autostrada vicino a Arvio, sono 2 gradi e comincia un pochettino a vedersi in mezzo all'acqua e alla neve. Adesso ci rivediamo quando inizia a nevicare sul serio, intanto siamo a destra della logistica della Subaru. Siamo usciti a Roveretto Nord e questa è la situazione, per fortuna che le previsioni davano lievi nevicate, sta venendo giù veramente veramente tanta, adesso vediamo, ho la balena poi, macchina anche sbagliatissima, vabbè, adesso vediamo come sarà la strada, dopo magari montare le catene perché ce n'è già, c'è già dell'accumulo per terra, si vede. Erano veramente da montare le catene, bellissimo perché ci siamo fermati, c'erano già formati i vigili e insieme ai vigili c'erano anche i vigili del cuoco con un telo e ci hanno montato loro le catene, che vabbè, insomma, uno dovrebbe essere ben capace da solo, però ha fatto anche piacere. bene, adesso le do una tirata perché si sono mollate, si si vanno tirate un pochino, eccoci arrivati a Folgeria, ultimo pezzo di salita un po' problematico, però ci siamo arrivati lo stesso. e adesso, a breve, assisterete a Balto che scende sulla neve. Beh, potrei anche farlo scendere. Eh no, perché io riprendo e tu fai scendere. un evento straordinario, Balto, che scende sulla prima neve, anzi sulla seconda veramente perché l'aveva già vista, sulla prima neve di quest'inverno. eccolo qua, eccolo, 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 va vai, adesso di sicuro andrà subito a fare una proverbiale pipì, no, prima, prima scava, prima scava, è sempre bella la neve Balto, vero? Senti che ci sono anche altri cani, eccola, eccola qua la pipì, no, niente. troppo emozionato. Bene, dai, viaggio lunghissimo, interminabile, veramente, però siamo arrivati, sentiamo, sentiamo le lamentele, sentiamo le lamentele sul viaggio, dai, su, allora, velocità troppo bassa, poi, dopo? è stufa di stare quattro ore in macchina per farne due, che vai troppo piano, vado troppo piano, ma quando c'è la neve bisogna andare pianino. mi aveva notato pure male di te. Eh, allora, la prossima volta ci andiamo io e Balto da soli. Bravi. Eh, adesso andiamo a vedere il paese, però non è bella bella la neve, eh, sembra bagnata, c'è meno uno, strano, boh. andiamo a vedere, dopo magari andiamo dove ci sono le piste. Balto? Allora, facciamo i bravi che andiamo a fare un giro in centro a Folgeria? eh? Ah, si raspa, si raspa, che bella neve che c'è, che bella neve, sei legato come un salame comunque, eh? è legato come un salame? eh? ma lui è un salame. bello cavolo. non c'è tantissima gente, eh? andiamo a vedere un po' più avanti, mi aspettavo qualcosina, qualcosina in più, però adesso voglio riprendere la funivia qua, bella vista. eh, lui tira, tira, va che c'è il ghiaccio Balto, non devi tirare. andiamo a vedere la funivia, bellissima. andiamo sotto, che c'è il negozio di giocattoli qua. e allora la funivia con gli gnomi. finalmente dopo quasi quattro ore di macchina è arrivato anche un momento del pranzo, un po' tardi, però vediamo. è tardi, tardi, perché cosa sono le due? sì, chiaro. abbiamo avuto un problema neve che era Suzuki Balena proprio. vediamo cosa ci sarà di buono. non era, non era preparata queste strade. però ce l'abbiamo fatta e siamo arrivati. ci sono dei fiocchi di neve, adesso non ho voglia di andare fuori, non ho voglia di andare fuori. ci sarebbe da andare fuori. ci sarebbe da andare fuori. no, sarebbe da andare fuori. mamma mia, sono enormi. no, no, no. no, non c'ho voglia, non c'ho voglia. anche il ristorante è veramente bello. anche il ristorante è veramente bello. ma adesso proprio... devo proprio andare. perché dopo non vengono più. dopo così non vengono più. sono troppo belli, li vado a riprendere dai. andiamo a vedere, va. ci sembrano mattoni. ecco le quattro. enormi. bello. uno filma e l'altro fotografa. veramente un bel posto. come si chiama? ma chi lo sa. dopo guardiamo. questo... vediamo se riesco a riprendere il mio piatto. grazie a voi. gnocchi con anacardi. puzzone di moena. e... e non mi ricordo più. ah, e la lepra. il sugo di lepra. belli. buon appetito. scoperto nell'uscita al ristorante da Ugo. bene, continuiamo il nostro giretto. ma Daniela. adesso andiamo a vedere dove ci sono gli impianti. ma è dall'altra parte. è di qua che dobbiamo andare. ma finisce? qua è finito eh. ci dovrebbe essere un... io mi ricordo un pasto dove vendono il formaggio. balto è un cane che fa molto arrabbiare. no, 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 no. lo dobbiamo anche sbagliare. balto che cammina sulla neve. dai. eccoci in zona gioco per balto. ma è balto. mamma mia. tra la sabbia e la neve non lo so. forse è di più la neve. ma sei contento? sei contento? balto? guarda che palla di neve. guarda che palla di neve. guarda che palla di neve. balto andiamo? dai. è che non ci si vede? ok. ho sentito di cani che si sono persi nella neve alta. andiamo? dai 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 dai. dai. su che proviamo l'active track. dai. guarda. chiamalo. chiamalo. chiamalo in modo invitante. non viene. non viene. noi andiamo. noi andiamo. oh c'è dè. oh c'è dè. oh c'è dè. favola. 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 da inizio inverno. bellissima. eh? eh? com'è a brashov? si. proprio bello. com'è la poiana di brashov? no. poiana brashov. non poiana di brashov. poiana brashov. quel che è? bello. bello. cavolo bello bello bello. bene e adesso con la nostra baleno da neve se ne ritorniamo in mezzo all'acqua. alla prossima. ciao. bello. bello. non so se.